ciao benvenuti a tutti benvenuti a tutti benvenuti a questa live su chimico chan cazzo quanto l'aspettavo dopo così tanto dopo così tanto tempo no Dario Moccio non parliamo di Evangelion no assolutamente no assolutamente don't mind me I am just here to S. World Ray grazie Vittor Vittor ha scritto ancora prima che iniziasse la live tipo 40 minuti prima che iniziasse la live scriveva in chat questo fa capire quanto è bravo Vittor è sempre sul pezzo no Pops il fumetto è in italiano quindi abbiamo innanzitutto partiamo con le presentazioni abbiamo qui il fantastico autore di chimico chan della croix a lui della croix saluta parla non mi sento ok ce l'ha fatta ciao ciao mi sentite? ciao sì 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 perfetto si è disconnesso da internet tipo tre secondi prima di cominciare sì ho notato infatti ho messo Ray Ray in io gigante così ero tipo ciao vabbè hai fatto bene a prescindere Dario Moccia ti dice ciao Ray ti chiami come il mio gatto bello vai da sapersi anche Dario Moccia mi dice che sono furri eccoci qui non è il vero Dario Moccia ma com'è immagina è soltanto un mitomani quindi e poi il mitomani però ha detto sono traguardi piano piano sono traguardi e poi abbiamo per l'appunto la meravigliosa e bellissima Ray che abbiamo visto spesso questa è la terza veste con la quale ti vediamo anzi la quarta perché tipo sei stata la prima volta il recap of the week da te no? sì io con la mia maglia web esistevo poi sei stata da Cosmix alla Nami poi sei stata come Maite con le core cara mentre alla chimicociano ma è fantastico sicuramente sì è strano la gente che fa balanza io buonasera signor della Croa e la signorina Ray ma buonasera anche a te comunque non sono per nulla offeso che non mi hai salutato è che la Schi è un Herkling sono un co-regazzo quindi giustamente ma sì quindi giustamente mi odio anche a te gentilissimo la Schi con gentilissimo la Schi con portati bene Ray è un eco furri infatti e vabbè questo si sa sappiamo che nei cessi di tutta Roma c'è scritto sul numero telefonico dicendo chiamate solo se furri perciò vorrebbe ridere perché c'è il meme di cessi di lettere io sono studentessa di lettere cioè di lingue quindi perfetto ora ce l'ho da scrivere buonasera una serata a te Geppu allora io condivido il profilo Instagram di Kimiko Chan così immediatamente magari si vede anche anche meglio allora questa io direi che per iniziare una bella immagine per sintetizzare Kimiko Chan allora Kimiko Chan è stato è non è stato ma possiamo definirlo un vero e proprio fenomeno Dela è un è un disegnatore per chi non lo conoscesse che sul web in Italia ma sinceramente anche non solo è abbastanza famoso perché non soltanto per delle sue opere tipo è arrivato diciamo il successo abbastanza buono con Zeo Smith e Dean Torni con quando sì parliamo di un po' di anni fa però io andavo al liceo dico solo questo e oggi invece la divisa è fake molto carina ti dice Pops mi è piacere sono confuso chi è Kimiko Chan Kimiko Chan è la protagonista di questo fumetto e adesso ci arriviamo un fumetto che ha fatto della croix e che ti aspettavamo da tanto tempo ed è abbiamo anche qui la cosplayer ufficiale che è Ray anche se adesso i capelli un po' troppo lunghi ma vabbè mi faccio vedere mi crescono troppo in fretta cioè io sono andata dal parrucchiere e ho fatto senti tagliameli cortissimi perché mi ricrescono subito io una settimana dopo ecco faccio vedere nell'albo trovate anche le sue foto ufficiali da da Kimiko da Kimiko direi dico solo che sogno che sogno assolutamente e quindi Dela cioè Kimiko Chan è partita un po' a cazzo di cane no? sì 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 assolutamente devo provare un pendello nuovo adesso sto prendendo l'hai messa la prima vignetta su Instagram ho preso uno di sì penso boh ok ma non è che siamo a parlare del tuo fumetto perché dovresti sapere è la diversa all'inizio di Kimiko Chan non lo so ecco qua sono già felice qua ecco questa altra bellissima questa è tradizionale e quindi sì Kimiko Chan è nata essenzialmente metti un sacco di post Dela poi bene assolutamente fa bene Kimiko Chan nacque come una vignetta essenzialmente a caso sì sì era quella del senpai del cazzo gigante del senpai però non lo vedo no forse qua non l'ho messa aspetto qua non l'hai messa vabbè la trovo in altri modi e però poi diciamo che essenzialmente tu continuasti con queste vignette sì 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 ah ah ma no Kimiko Chan vendere la propria rivale in amore dei trafficanti dell'est Europa non ti farà godagnare le attenzioni del senpai eh questo lo dice lei però brava brava Ray esattamente anzi brava Kimiko da ora in poi è canon che tu sei Kimiko va bene no Kimiko Chan a scuola solo perché hai dimenticato i compiti non mi sembra il caso e così via aveva sì ecco Pops è il grande amante di ghiandere assolutamente il pippo gigante di chi? del senpai del senpai esatto il senpai era questa figura che all'inizio Kimiko Chan nasce come una figura ironica dello slice of life scolastico giapponese come un po' di satira un po' di presa in giro un po' sinceramente non c'è sto a pensare sto a fare disegni poi quello che è un pochino un pochino c'era un'idea specifica sì sì è nata possiamo dire che è nata abbastanza come una ghiandere possiamo dirlo perché le prime vignette vedevano lei che amava tantissimo voleva comunque il senpai di cui già però conosco ricordiamo che tra pochi giorni sono vent'anni dall'11 settembre no scherzo ovviamente no che sta a dire sta a dire è che è il suo compleanno lui io non la leggo io non la leggo la vignetta dico solo questo ma tanto sti cazzi manco ci facessimo i soldi con Twitch ma no quello che stai distruggendo è il quartiere ok fai pure ah qui ovviamente Victor Hansen ti chiede se hai giocato mai agli under simulator facciamoci subito ci giocai quando uscì una delle prime demo e poi basta perché tra l'altro ora in questi giorni è uscita la notizia che sembrerebbe aver finito si tra qualche giorno finirà ma si può ma si può giocare andare simulator su Twitch io non penso era stato bannato ora mi pare che sono sbannato è stato sbannato è un po' splatter quindi non saprei ecco il messaggio è cattivo ma vabbè domanda per data cura se dovesse fare un allineamento di idea chimico quale sarebbe non lo posso dire perché sarebbe spoiler allora cioè nel senso non è non è caotico non è nella prima linea di caotico buono legale buono e neutrale buono questo oddio il fumetto il fumetto sì sì un soltanto per chiudere il discorso e poi lasciate la parola il fumetto è sorprendente arriveremo a parlarne per bene ma intanzitutto potete anche vedere che non è una stronzatina un tank bon piccolino eh ha un mattone così poi aspetta nelle mie mani può ancora scusate cioè ecco no no vale assolutamente un sacco vale assolutamente un sacco eh comunque sia Alex me lo regali cioè Sauron no sgancia ragazzi sapete che io non lo posso regalare guardate la dedica che mi ha fatto alla parola mia sogno cioè raga ma io che ma vendo mia madre piuttosto no no praticamente una canzone vanno più di più di una canzone non so quante tavole sono perché non è numerato obiettivamente non mi ricordo dovrebbero essere 300 credo sì esclusa illustrazione ah guarda il nostro Sauron da Rimo Chiamanga non dice quasi mai nulla di positivo quindi è una cosa bella onorato solitamente rompe insulta e rompe è una brutta persona vabbè lo si vuole bene perché è una brutta persona non ha senso ma tanto oggi parliamo di chimico perciò ma no chimico c'è un essere in disaccordo sul quale cantante della vostra boy band preterita sia il più figo non è un buon motivo per la tua compagna di scuola è bello perché lui perché della qua tu capisci davvero comunque i ragazzi di oggi e questo è un bel pregio da parte tua vero io posso dire di aver visto delle colleghe universitarie litigare su chi fosse il loro bias dei BTS sì no ma che scherziamo ma che scherziamo sono felice che della cioè chimico-chan parla all'animo davvero delle persone diciamo che nel che poi nel fumetto nell'albo la figura di chimico è diversa rispetto a questa delle vignette non si trova un senpai diciamo che e io lo trovo giusto io lo trovo corretto della avrebbe potuto fare qualcosa di semplice molto semplice avrebbe potuto prendere le vignette quelle con le quali lui ha avuto fama online ok io lascio il messaggio di Victor Hans avrebbe potuto mettere avrebbe potuto fare una storia che semplicemente riprendesse quelle delle vignette giocare sul sì vabbè stream elements giocare sul facile invece hai creato una storia complessa narrativamente più che intrigante con il ormai comunque il tuo stile perché comunque anche chi ha letto della tua l'opera il self titled l'opera che prende lo stesso nome dell'autore comunque sia può anche ritrovarci sì io mi chiedo quasi e me ne frego se è un piccolo spoiler se è possibile se adesso siamo nel multiverso di Delacroix di Delacroix come autore come si dice il multiverso della Marvel io dico il multiverso di Delacroix a te come autore sì in realtà considera che il secondo dovevo far uscire perché anche su Chiarella comunque sia sì si fanno un po' tutti i parti ma io dovevo fare dovevo lavorare al secondo volume di di Delacroix certo che prevedeva il comunque il concetto del multiverso che non è nuovo come concetto perché nei fumetti per dire della Marvel è da decenni ormai tanto stai lì ho guardato tutto da altri quindi non ti preoccupare sì sì assolutamente però poi ho preso un'altra direzione perché evitiamo e poi è uscito il discorso del multiverso al cinema direttamente ma infatti nel fumetto c'è anche un'apparizione cioè viene viene fatto capire che siamo sì infatti sì infatti lo chiedo per questo sì 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 ma non Kimiko-chan diventare un membro della Suzuki non è una buona attività extrascolastica e io qui non sono d'accordo obiettivamente si imparano un sacco di cose infatti infatti Ray quanto ti senti simile a Kimiko-chan Kimiko parla e parla un pochino della tua esperienza da Kimiko cioè è difficile spiegare diciamo che quando è uscita non potevo non notarlo cioè già seguivo della croata anni come ho spiegato e quant'è poi tipo mi è arrivata questa sfilza di tag tag sei tu sei tu sei tu e io quando l'ho visto all'inizio tipo beh sì non posso negare nel senso perché da anni anche come diciamo artista il mio concept si è sempre basato sul fatto di avere un aspetto abbastanza infantile però di essere un macello cioè tipo come musica la solista portavo il metal il rock punk giravo in questo modo o magari me ne esco con le cose in romano ho letteralmente creato Midray quindi direi che mi sono rispecchiata abbastanza nel personaggio poi ovviamente posso dire con quasi sulla certezza di non aver fatto atti estremi capito Twitch ok però però mi sono rispecchiata comunque cioè mi somiglia secondo me c'è pure l'orecchia sventola ora sono coperte dalle cuffie però beh è bellissima Kimiko Chan perciò in ogni caso non può essere che un non può essere che un complimento che sogno essere lei veramente ragazzi la domanda rispondete sì a prescindere rispondete sì a prescindere sì sì bene cioè non lo so chi è ma sì 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 dite sì a prescindere la sua Nemesi è la sua Nemesi lui è ossessionato sì assolutamente fan della prima ora comunque sia perciò allora Dela quanto ti quando ti sei reso conto della del oh cazzo ma devo fare più di una vignetta allora veramente all'inizio quando avevo cominciato quando già avevo fatto più di una decina di vignette mi avevano anche proposto di editori di pubblicarle più che vabbè non era una proposta seria tipo ah guarda gente dentro una casa editrice mi diceva guarda potresti potresti proporlo secondo me l'accettano però però non mandava di fare una raccolta di vignette ma neanche sul gruppo facebook sul coso sul gruppo facebook di Kimiko Chana hai pubblicato la prima perciò devo andare sul tuo profilo ok se c'è nel mio profilo tra l'altro l'ho cambiato ma era una cosa storica la prima ma forse c'è qui ma forse c'è qui io credo che vediamo se c'è nell'albo perché mi sembra strano perché nell'albo cosa molto bella è davvero stata una bellissima idea hai messo anche la collezione delle vignette ed è davvero no non sono niente messe cronologicamente mi sa no 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 le ho messe diciamo a ispirazione e tra l'altro nelle vignette nelle prime vignette fino alla fino tipo alla o ne avevo fatte 10-15 così non c'era neanche il concetto di Aerie no 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 è nata dopo sì sì ma come tutto questo universo pazzesco di Kimiko-chan tutti questi personaggi tantissimi particolarissimi che hai fatto poi vabbè la tua preferita ma io su su di lei io mi chiedevo su Guren ma non è che io mi sono chiesto prima non è che l'hai creata soltanto per fare la battuta della rana che veniva vivisezionata a scuola tipo che prima è nato il concetto di vivisezionare la rana e poi hai pensato al personaggio che avesse eserciato no allora ti dico come è nata invece forse ancora ho il file del del primo disegno di Guren che in realtà si doveva chiamare Midori perché era verde sì sì è vero però non mi piaceva Midori perché era ti mando il vediamo aspetta se ce l'ho addirittura sì una ricca e viziata figlia di papà che usa il suo status e i suoi soldi per tormentare i suoi compagni di scuola questo finché non è arrivato a Kimiko Chan ama i soldi far soffrire poveri o gli scorpioni perdere e Kimiko Chan qua diciamo che chi ama le yandere sono tutte yandere basically no vabbè sì praticamente sì sono tutto un pugno di stronze sono tutto un pugno di stronze nel senso perché Kimiko Chan si è capito è una ragazza sociopatica psicopatica per utilizzare nei termini normali poi vedete il fumetto tutte simpaticissime si dice il nostro amante di yandere ma non c'è una contrapposizione bene contro il male con tutto che la storia ha una il fumetto ha una sua storia ha una sua narrazione ha una sua trama ma una contrapposizione bene contro il male non c'è nel senso non voglio neanche dire che è tutto grigio perché è tutto colorato così meravigliosamente che neanche vorrei insultarle in questo modo e voi posso passare su quello hai quindi qualcosa che ci vuoi mostrare Dela? sì te l'ho mandato su Telegram io non ho idea me l'hai mandato su Telegram perfetto intanto allora se vuoi rispondere alle domande di Kuni che dice ah no Kuni c'è rimasto male che ho degli scorpioni mi dispiace se hai avuto ispirazione dei lavori di Max Bunker anche aspetta vediamo chi è perché molte volte conosco i disegni ma non collego i nomi Max Bunker Max Bunker Alan Ford ah che beh magari ispirazione diretta no però sì sì Satanic sì sì lo conosco magari ispirazione diretta no però sono cose che ho letto tanto e quindi buonasera Gamma7 ciao Gamma7 ciao quindi questo perciò il primo concept di di Gurin e le loro le sue era il primo concept però mi sembravano troppo troppo anonimi eh beh anonimi posso comprendere che tu cerchi sempre di mettere cioè anonimi nel senso quello che fai non c'erano delle caratterizzazioni cioè per dire lei non è non si può dire anonima ad esempio esatto sì sì no ma per come sono ora sono particolarissima si potranno comprare foto dire in questo cosplay sì ma non è questo il luogo forse per parlarne no no ma per me replacement capito ma no no se qui sei in famiglia tanto siamo in famiglia noi tre nel senso quindi non ti preoccupare assolutamente sì comunque l'illustrazione finale che chiude realmente no ovviamente non la mostro che chiude realmente chimico la 2 a colori la splash a colori fantastica davvero davvero fantastica le ultime pagine sono colorate tipo wow no ma vado all'inizio è meraviglioso come ogni personaggio abbia la sua potete anche vedere da qui del resto del resto vi mostro anche i tavoli che ogni personaggio ogni ragazza abbia il suo colore ma non solo poi sono anche anche le vignette dipende dal punto di vista da chi è il punto focale no il blu chimico chan perché chiaramente chimico chan ciò che conta realmente però vede poi vabbè qui l'isekai vabbè bellissimo la storia dell'isekai è bellissima però come vedete ad esempio tutta la tavola è gialla proprio perché è il protagonista posso spoilerare questo isekai o sì 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 il banana credevo di essere morta mi sento strana mi sono reincarnata in un camion per il trasporto di frutta e verdura era una bellissima studentessa adesso è un camion di portata massima di due tonnellate è un capolavoro ragazzi abbiamo pure gli spin off pronti assolutamente e si chiama questa light novel quella volta che mi sono trasformato in un camion non refrigerato per il trasporto di frutta e verdura segui la tresca amorosa della stagione di una casa editrice che ha finito le idee tra l'altro invece c'è un manga vero e proprio citato no che ama Airy che manga che ama chimico e lì posso dire che ah no cazzo non la posso mostrare mai nella vita questa tavola ah per caso eh non lo so io quindi posso dire che posso apprezzare la casa editrice ma non lo dico il logo pure ti sei pure studiato il logo ma non hai idea ci ho buttato il sangue su questo progetto perché veramente è stato un anno intenso che ho perso anni di vita ne è valsa la pena ne è valsa la pena mamma mia quanto ne è valsa la pena ehm Airy tu non hai ancora avuto modo di leggere il film perché il mondo fa schifo e l'università fa ancora più schifo perciò tu quali sono le tue aspettative allora sinceramente già sfogliandolo sono rimasta un attimo ah 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 cioè c'erano varie cose che uno già non si aspettava ok cioè io mi aspettavo che fossero tipo le vignette però a fumetto invece già sia di colorazione un sacco di personaggi poi c'è il prequel cioè c'è di tutto c'è un mondo un universo eccetera e poi mi sembra di aver capito che sono tante piccole storie staccate no vabbè non diciamo non diciamo non diciamo no infatti non diciamo non diciamo prima impressione essere tipo no vabbè vabbè ci sta certo io non mi vabbè già Della mi aveva detto Alex quando le leggerai non ti non ti puoi aspettare secondo me non ti aspetti per com'è io perciò a prescindere non non mi ero fatto nessuna particolare aspettativa posso dire però perché qualcosa si deve pur dire che Della ha trovato e questo si capisce come non solo vabbè è divertente lui nel senso la sua verve comica il suo istrionismo il suo ma anche la sua fottuta fantasia che ha tanti con questo fottuta messa lì mi sento un Valerio Lontino uscito male perdonatemi la sua il fottuto rock la sua fantasia pazzesca ma si nota comunque che anche narrativamente è un ragazzo che sa scrivere tanto bene ma tanto ma tanto ma tanto bene perché hai trovato l'espediente narrativo perfetto per essere fedele a quello che la gente si aspetta da Kimiko-chan perché comunque sì non è che trovate Kimiko-chan che si fa suora e vuole salvare il Giappone però mi aspettavo tipo lo scolastico capito però dove c'è Kimiko-chan che è stramba invece non provo questa era l'idea questa era sicuramente l'idea che 8 fumettissi su 10 avrebbero portato avanti senza ombre di dubbio questa è l'idea che 8 persone e non è assolutamente detto come insulto questa è l'idea che 8 persone su 10 avrebbero portato avanti perché hai già il setting pronto i personaggi pronti il fandom pronto che si aspetta esattamente quello boom dagli quello è fatta invece Dela che bravo ma bravo ma bravo ha fatto qualcosa per essere coerente con quello comunque che è chimico perché comunque sia la la iandere che si diverte a torturare e uccidere la gente è un fumetto Twitch non era un pericolio comunque quello c'è assolutamente adesso ne parliamo Victor Hansen del suo trascorso di creazione però con il modo in cui l'hai fatto sei riuscito a essere viene in mente una parola che però spolirebbe troppo a superare ogni limite però senza mamma mia è difficile senza far spoiler leggetelo a superare ogni limite scusate a superare ogni limite però senza esagerare perché comunque sia certi avvenimenti li possiamo vedere tantissime volte che è quello che comunque il tuo pubblico se lo aspetta di vedere tantissime volte determinati eventi però l'hai fatto in maniera da non risultare ripetitivo noioso e da riuscire a sorprendere ogni singola volta quanto è stato difficile Lera parlaci di questo nei limiti del possibile allora intanto ti ringrazio per le per le belle parole perché onestamente avevo anche il dubbio che magari fosse un po' pesante un po' noioso o comunque di non essere riuscito nell'interno l'ho divorato l'ho divorato ma che noioso per il resto ti ripeto all'inizio quando stavo lavorando alle vignette l'idea era quella di partire dal setting scolastico fare uno slice of life anche perché mi sono ispirato anche a tanti anime del genere che però erano magari demenziali sì sì beh ma il setting principale di Kimiko Chan è chiaro volevo sottolineare il che diano nemmeno però come hai detto tu appunto ho voluto prendere una direzione diversa ho cercato non ti dico di riuscire a dare quel tipo di narrativa di narrazione manga perché non non ho studiato in quel senso quindi non credo che ci riuscirei però appunto ho cercato di dare un'impostazione diversa di cercare di spiazzare soprattutto chi conosceva chi ha conosciuto Kimiko Chan online che comunque rimarranno comunque estremamente soddisfatti Ray questa foto la dobbiamo fare per forza i teschi ce la facciamo in qualche modo i teschi le fiamme vabbè è facile i teschi ma in realtà lo sai ce l'ho in mente un posto però il come arrivarci dovrebbe essere complicato perché si trova in campania guidi della va bene sì assolutamente la spedizione in campania tu vivi a Roma la campania è metà strada è metà strada mi sa che è più facile per me però con il treno tre ore no dalla Sicilia tutto è difficile anche dalla Sicilia alla Sicilia è tutto difficile io sono siciliano nel caso qualcuno non lo sapesse offro la mia testa come teschi dice Victor ma che c'hai oggi sei più vivace ecco si fa il mix tra te e chimico c'hanno per carità tutto un brino comunque sotto mi sa che c'era la chimico ancestrale o comunque una delle prime mi sa che l'ho vista scorrere nella linea centrale nella colonna centrale uh mici quella lì più semplice c'era già la prima vignetta proprio dicevo la prima ah che è bella però questo è già un po' più antico ecco è bella questo per carità forse non forse non posso mostrarlo però è carino ecco qua sì il fumetto è pieno di citazioni io uno che io allora moltissimi me l'aspettavo io cazzo non mi aspettavo quella One Piece con la faccia classica che è Odama una non me l'aspettavo sai non so se posso se mi dai permesso la mostro se no no quella l'ho vista no no vabbè oddio non voglio dare troppe anticipazioni a parte che è una delle poche cose che posso mostrare perché poi ci sono tutti scusate scusate cosa dice perché mi hanno detto che se non veniva vedere lei mi cadeva il pipo e mi serve fare pipi eh capito l'ho scritto io scusate Ray ma perché ridi sempre perché felice si trova tra amici ed è un bel contesto sì e ho letto quel commento e mi sono sentita responsabile diretta responsabile di questo accaduto ecco beh è bello ma è giusto fagli cadere i pipi è bello no mica non ho detto che lo facevo io dicevo solo che succedeva proprio naturale di composizione no mi dico fargli cadere tipo come niente ci è rimasto fai cadere il pipo a Sauron per favore è il momento vabbè da chimico c'è un di lore poi sì 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 ah posso dire che Gurin comunque sia sotto la doccia con i capelli e 10-10 posso dire 10-10 anche lei sì assolutamente ecco qui è ancora più 10-10 appunto eccola questa posso dire io questa ero sull'autobus che tornava a casa non me l'aspettavo perché che poi comunque leggere chimico c'hanno in pubblico dà un sapore diverso a tutto quanto di rischio proprio mi immagino quelli vicino così se non mi servisse andare in bagno lo farei cadere volentieri ma no ma ci sono altri modi per andare in bagno non ti preoccupare Ray esattamente come chimico ride solo per le disgrazie a lui no questo non è vero però la cosa cioè diciamo che ho un umorismo un po' particolare ma oggi lei è più chimico lei oggi è più chimico sì tra l'altro tra l'altro io devo rivelare una cosa una cosa segreta quando c'è un meme che nessuno capisce io lo mando a Delacroix che cosa carina spiegamelo è complicato spiegare diciamo che di solito sono cose piuttosto cursate ecco ah in quel senso o immagini dell'internet che nessuno dovrebbe vedere se non Delacroix capito io con Ray ho avuto questa esperienza no perché io la conosco da anni no però non mi permetto di avere una intimità madame con intendo con lei perciò una volta mi ha fatto una battuta un po' non è che mi dà fastidio però io dico ok io non so come reagire in questo momento e perciò lei si sentita pure in dovere a fare uno stato facebook tipo chiedendo scusa come se avessi offeso il genere io non mi sono assolutamente no a me fa piacere che ha voluto fare quella battuta vuol dire che si sente a suo agio magari però io è che per me era una cosa così scontata cioè che secondo me era una battuta che si capiva troppo invece no era troppo sbagliato sono curioso o è bannabile forse è bannabile però vabbè in privato in privato vabbè dopo dopo maggiori cose dico soltanto che ho provato a descrivere come era andato un evento delle guerre gara con con degli sticker di telegram un po' particolari cioè ho fatto tipo una narrazione sì e si concludeva nel peggio dei modi sì 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 allora Sauron dice comunque questo fumetto sembra interessante ma faccio fatica a leggere qualcosa che non è in stile manga della tua guarda lo capisco perché anch'io veramente cioè oltre i manga lui non legge Della fa le sue cose e poi non se le legge più capito dice che schifo neanche le mie lui in realtà li disegna da destra a sinistra e poi no da sinistra a destra no giusto ho detto bene da destra a sinistra e poi le fa tutto l'effetto specchio con photoshop capito ma prima o poi prima o poi farò qualcosa nel senso di lettura giapponese solo per sfizio per disorientare chi legge sarebbe bello rispondo velocemente all'aski e raffaccio di mister su non solo oda ha fatto questa patch a una decina di personaggi tipo io mi ricordo enero poi nella saga di wano sicuro rufi stesso rufi stesso quando rincontra sabo ma io penso l'abbia fatto fare a chopper a usop penso l'abbia fatto fare un bel po' io penso l'abbia fatto fare un bel po' ma è proprio il suo meme l'ha fatto fare ad enero è vero poi non l'ha fatto fare un bel po' poi per un bel po' non l'ha più fatta poi però c'è andato di sua forse forse qualcuno gli avrà detto perché secondo me oda non ha tempo di andare su internet che su internet era diventata virale che la gente piaceva e quindi tra l'altro non vorrei dire una fesseria ma diventò proprio un meme c'è stato un periodo che era era stata disegnata su qualunque faccia sì sì assolutamente sì assolutamente sì poi 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 comunque sia anche se tornando al commento intelligentissimo scusate mi metto io so la faccio censurata è la mia questo fumetto è sempre interessante ma lascio bra 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 guarda non ti preoccupare perché comunque sia anche perché weeb come te Sauron perché così tu ti stai definendo in questo momento trovi tanto di cui essere felice obiettivamente perché le citazioni sono assai io non lo so oserei dire che la un media ciao Lelo Shefford 11 io oserei dire che l'unica cosa con la quale potrei paragonarlo un pochino è Doki Doki Literature Club ci sono tantissime ma perché 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 si tratta di una parodia di un modo di di una parodia di un non è che si limiti al parodistico per carità però ci sono elementi parodistici del mondo manga di un certo tipo fatto in occidente ed estremizzato al il suo massimo in questo caso non stai estremizzando il manga di per sé perché non vuol dire assolutamente un cazzo però che estremizzi lo slice of life commedia scolastico eccetera che è un pochino come Doki Doki ha voluto fare questo processo ha qualcosa dello stile manga ma una citazione questa giusto cioè mi sembra proprio palesemente una citazione a un seguito qualsiasi influencer esiste tutti gli streamer su Twitch e YouTube li segue tutti quindi non ho d'ora di Giappone sì Dokurochan era quella cosa che mi sembra che tu me l'avevi citato Dokurochan non mi viene in mente cosa sia Dokurochan era praticamente adesso lo ricordo perché me l'ha citato tre volte in chat perché lui fa parte sempre degli abbonati abbiamo lasciato Telegram siete tra i pochissimi che riescono a pronunciare il mio nickname e allora per me chiedi di dire che sono tra i pochi perché Stundu me la prendo tutta io l'ho in merito e l'ha detto lui me la prendo tutto giusto e quella che vedi nel mio nick sì 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 no no il nome ahimè perdonami non mi diceva molto però appena ho cercato subito su google le immagini e mi era più che chiaro boh Dela ho detto una stronzata ho detto qualcosa di sensato riguardo a cosa? l'ultima cosa che ho detto su Doki Doki scusa hai ragione sull'estremizzazione no 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 in realtà è vero perché non è una parodia in sé per sé ha dentro delle parodie ma poi è tutta una trama sua una trama che sembra che non si sviluppa ma poi si sviluppa però non è una parodia in sé per sé no 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 assolutamente anzi anzi come dicevamo io e Ray prima tu potevi fare la parodia e nessuno ti avrebbe mai potuto di niente nessuno ti avrebbe detto ma sì no ci sta è divertente è carino poi nel mondo del fumetto italiano una cosa come Kimuzuko-chan non c'è perciò è buono se lo fa Dela sì magari qualcuno in Giappone l'ha fatto per esempio tutti e due no tutti e tre diciamo tutti e tre apprezziamo a so via so basè mi viene in me bellissimo tutti e tre apprezziamo a so via so basè anche quello abbastanza parodistico ad esempio sì 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 non c'è l'elemento gli andere non ci sono sbudellamenti però comunque rimane molto anche se anche quell'ending mi dico l'ending meravigliosa sa di sabba e di streghe e di rituali satanici quindi è molto bello comunque sì tra l'altro io Ray io penso sempre sai il cervello quando si fissa stronzata io quando ti dico il nome io ti dissi asobi asobi massimo e io mi sono odiato a morte per averlo sbagliato e lui dice no ma però l'ho ritrovato comunque io mi sono no ma poi ho corretto con Google che volevi dire ecco ma perché noi che siamo giappominchia che studiamo ste cose brutte mi è venuto subito di fare il verbo niente perdonami ma perché mi sa che è verbo però è solo fare il verbo sì io ero in giapponese primo anno all'epoca no quindi ho fatto quello che ho studiato adesso sono al terzo anno di giapponese e non lo studierò mai più eccoci quindi dicevamo verso sì dicevamo appunto che bla 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 questa cosa qui c'è chi chiedeva però come comprarlo Kimiko-chan e quindi se vuoi ma che bravo adesso considera l'ho messo sullo store di Kofio il mio store personale e tornerà disponibile dal primo ottobre perché compri il mio compleanno quindi fatemi un regalo e comprate esatto compratemelo per voi fatemi un regalo e compratemelo per voi adesso sto finendo di spedire le ultime copie del crowdfunding e quindi spedisco quelle e riapro lo store allora allora l'ho il tuo store io lo trovo su Instagram Kofi questo qua sì 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 perfetto così lo metto subito subito se mi fa fare incolla non mi vuole far fare incolla va bene allora ci facciamo ok sì perfetto come si usa Whatsapp basta in che senso come si usa Whatsapp perdonami scusa cioè quando non mi ha scelto senti non è colpa mia non è che sono io rinpegiorita non mi faceva l'incolla no no lo so lo so era per dire no non ti preoccupare stronza quindi dicevo perciò qui assolutamente trovate tutto perciò io ve lo linko poi sul sito comunque troverete un articolo dettagliato con le mie impressioni eccetera sul fumetto e chiaramente troverete anche ogni link possibile con i miei click trovate anche sulla news con le live che trovate in home e trovate a destra in approfondimenti proprio primo posto trovate anche il profilo instagram direi perciò per seguitela assolutamente ma poi tanto lo rilinchiamo io arrivo solo ora ma voglio dire che chimico mi è piaciuto un sacco sì lei assolutamente fa sempre tantissimi tantissimi complimenti ti ringrazio quindi torna in vendita dalle 1 ottobre hai detto sì sì forse anche prima ora quando spedirò l'ultima copia del crowdfunding lo riapro comunque crowdfunding è andato meravigliosamente sì 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 assolutamente sì 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 l'ho fatto su app per fortuna è andato bene abbiamo fatto un sacco di stretch goal e quindi non mi posso lamentare e poi con i soldi invece che non usi ti ho usato per il fumetto te li sei intascati e niente esatto mi sono comprato le copie di no sì di One Piece di One Piece ecco questo è uno degli acquarelli ad esempio che ti ha chiesto quelli che hanno speso di più praticamente no? sì 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 esatto mi aveva chiesto di fare qualcosa alla Call of Cthulhu che tra l'altro è anche in tema col fumetto però non spoiler nient'altro suona il cellulare a qualcuno non a me ok ho sentito anche qualcuno dire pronto ok perciò ci siamo Cap Nemo e Roma è telefonato per il secondo mese grazie mille Nemo sei bellissimo e stupendo grazie è molto importante ah Lisanti ok chi era il telefono dato che ho sentito il tuo telefono Lisanti sono curioso di sapere adesso chi fosse pure vediamo allora vabbè perdonatemi Emily Tergan sarà sul sito trovi informazioni sul sito trovi informazioni sugli ospiti su Instagram trovi informazioni perciò ci saranno i doppiatori ci sarà Yamato anche Italia 2 che ci sta in mezzo perciò sarà una bellissima live importante grazie mille per seguirci rimani adesso e torna domani perciò 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 allora l'edizione di Kimiko Chan è pazzesca io qua prima vedevamo il prezzo 16 euro mi pare di aver letto giusto sì 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 diciamo che ne vale ogni centesimo innanzitutto perché è assai abbiamo detto prima qui di 300 tavole a colori ragazzi non trovate nessuno che ti fanno 300 tavole a colori a 16 euro qui possiamo dirlo sì no assolutamente facilmente poi comunque l'edizione tutto la copertina ma anche gli extra presenti assolutamente io dico gli extra presenti nel volume perché io ripeto io ho apprezzato tantissimo che ci sono le vignette oltre al fumetto io l'ho apprezzato davvero tanto perché è un qualcosa in più poi vabbè poi come ultimo abbiamo questa cosa bellissima che riassume il fumetto perché la pace la serenità la tranquillità che ho fatto chimico no sì nonostante veramente le foto di rei cioè ragazzi le foto di rei da sole valgono 50 euro ciascuno assolutamente le foto di rei da sola quanto valgono ma ve ne rendete conto vero? nella cameretta spaccata allora non ironicamente questa non è una battuta secondo me cioè per me è un valore aggiunto enorme perché cioè avere la cosplayer della protagonista non è facile no cioè comunque è una cosa molto no grazie molto rara molto preziosa quindi assolutamente è un valore aggiunto enorme assolutamente 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 è ottimo poi vabbè possiamo dire che questo per i fortunati che hanno partecipato al crowdfunding c'era il portachiavi c'erano adesivi questo non lo posso fare vedere perché c'è una con le tette giganti di fuori ah sì c'è chi piace insomma no 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 c'è chi piace per carità chi è che non piace però allora io Dela ti faccio adesso l'unica critica coccente terribile sei pronti sei pronti io te la faccio proprio un pochino di tutto il tuo lavoro questa cosa che ti starò dicendo le cose perfette al 100% non esistono eh no non esiste esatto perché non hai messo il numero di membro qua hai ragione perché effettivamente allora per un motivo molto pratico perché siccome io non riesco a tenere traccia di quello che faccio probabilmente le avrei ripetute magari poi non ve ne sareste accorti ma io lo sapevo e sarebbe stata una cosa così però effettivamente è stato un errore di design perché non avrei dovuto metterlo direttamente allora io lo dico qui ok ufficialmente con te e con chimico io sono il membro numero 25 canonico no avrei potuto dire uno avrei potuto spacchiarmelo e dire uno ma io sono un uomo modesto e umile io sono il membro numero 25 va bene onesto è canonico è canonico ok assolutamente assolutamente che gli altri si adattino a questa scelta ecco quindi questo fa parte e poi è bellissimo perché il gruppo facebook dei fan di chimico chan si chiama il club mortale di chimico chan ed è bello che c'è pure nel fumetto questa è stata molto molto carina come cosa probabilmente è nato prima nel fumetto e poi su ovvio però voglio dire no è nato prima il gruppo l'idea del gruppo e poi nel fumetto allora il fumetto aveva preso una direzione e doveva finire verso tre quarti per come l'avevo progettato e poi mi sono preso più tempo ho detto aspetta forse posso fare qualcos'altro e l'ho continuato così come l'hai letto oddio adesso però sono curioso poi voglio voglio parlare di questo sono curioso da che parte che parte ti saresti fermato tu te lo dico subito perché lo dovevo vedere per ricordarlo allora della croix dopo della croix o sì 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 quando abc prima di abc o dopo abc anzi cba 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 quindi cba è stata tra le ultime cose proprio che l'inzio non era sì perché no allora mi ero fermato al al 7 cioè il 7 doveva essere un'altra cosa il capitolo ok dal capitolo 7 invece poi l'ho modificato ho modificato tutto quello che c'era dopo il 7 e ho continuato ottimo hai modificato tutto addirittura sì 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 ok te l'ho detto è stato forse è stata la cosa più il progetto più pesante a cui ho lavorato finora perché per gli altri andavo un po' a improvvisare cioè avevo la storia in mente e poi più o meno invece qua ho fatto ho progettato molto ma forse perché hai sentito allora facciamo no all'excursus Zeus probabilmente comunque sia essendo la tua prima esperienza editoriale così cioè comunque sia da che è riuscito un pochino dall'anonimato più o meno che ti hanno cominciato a conoscere più e più persone magari forse quello magari non lo vivevi con quella determinata pesantezza perché forse c'era quell'entusiasmo che si poteva avere in quei tempi forse sì anche se poi l'ho perso perché ogni volta postavo una striscia e i commenti erano eh ma io conosco quest'altra versione ah beh 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 in cui Zeus si fa radere le palle invece qua tu hai sbagliato che palle sì a un certo punto mi ha detto vabbè sapete che c'è ma andò a fare il culo ma no certo è stressante ma anche scherziamo ma anche scherziamo anche se ho un grosso debito nei confronti alla mitologia greca perché cioè io tipo non mi hanno conosciuto comunque c'era tipo bevi là ehm si chiama vabbè lasciamo stare non voglio dire cose che mi hanno detto in prima cambia l'idea poi però con le tue realtà editoriali come poi si è entrato sì già con Zeus eppure è stato edito però ovviamente è una storia ben pregressa da quello ehm con le tue realtà editoria con le realtà editoriali tu ti sei entrato comunque sia in una sorta di tua nicchia obiettivamente sì perché anche era anche diverso da quello che i tuoi colleghi sotto lo stesso ombrello ehm pubblicassero stessero pubblicando sì 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 e questo è bello da parte tua perché comunque hai sempre dimostrato una tua identità artistica eh ben 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 definita ehm anche un pochino fegandotene obiettivamente di 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 quello cioè perché tu mi dai l'impressione che sempre avresti potuto fare la strada più semplice ma non è una strada che tu consideri obiettivamente no mi piace complicarmi la vita ed è questa la cosa bella anche lei secondo me nel suo nella sua nella sua realtà diversa perché non è una fumettista secondo me anche lei può comprendere lo struggle dell'artista che si che si nella vita è più difficile del dovuto sì decisamente mi ci rispecchio in questa cosa proprio anche nella vita proprio in generale però sì anche come artiste perché anche voi potete perché voi siete delle ragazze bellissime ho fatto la pausa perché c'è anche una ragazza un po' meno ragazza ma anche lei bellissima assolutamente bellissima anche lei siete delle ragazze bellissime avreste potuto essere delle made normali non lo siete state perciò anche voi vi siete complicate la vita obiettivamente ad esempio sì sì effettivamente la scelta ha portato delle controversie cioè delle opinioni differenti nel pubblico degli scontri particolari nuovi diciamo così perché essendo una cosa originale la gente non si aspetta quello ecco certo certo non dico che sarebbe stato meglio non lo sarei mai dico che è diverso da quello che per l'appunto otto persone su dieci fanno comunque sia io penso che però con chimico dato che ha questo odore ha un po' di odore di giappone per citare Sauron prima andiamo dai Gurin secondo me sa di Onsen sa di Onsen che cosa carina vabbè Ansem dice sarà suona complicata ma ne valsa la pena assolutamente sì e poi vorrei dire per la e poi leggo anche il commento di Lelo ma per concludere qui volevo dire che dato che ha un pochino anche questo odore di giappone dato che hai avuto questa fama con le strisce che è un pochino inaspettata forse forse dimmi tu sei sbaglio ti sei sentito forse qualche occhio in più addosso e tu dei personaggi con tanti occhi ne capisci sì no ma in realtà ti dirò ultimamente il discorso del cercare magari di uscire un po' di più dall'anonimato cercare più followers non mi non lo guardo più ma comunque non è anonimato perché tu anonimo non lo sei che la nicchia ti fa anche comunque migliaia di copie per carità il DL per molti è una nicchia ma una bella nicchia sì 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 assolutamente però è un aspetto che non guardo cioè guardo il giusto però non mi piuttosto mi concentro sul progetto su quello che mi piace fare però hai sentito più occhi addosso nel mentre facevi chimico rispetto ad altri progetti passati allora rispetto sì effettivamente sì effettivamente sì 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 forse perché comunque ho toccato una cosa che era un po' più mainstream sì questo intendo dire intendo dire soltanto questo sì intendo dire questo perciò magari anche per questo ti è venuto più pesante no 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 in realtà no non è per quello perché ti ripeto cerco sempre di fare cose che mi piacciono certo quindi se non mi piacciono non riesco nemmeno a lavorarci ovvio ma no ma si nota che c'è questo e c'è questo è tutto frutto di te che fai quello che ami e vuoi fare quello che ami perché tu potevi benissimo e per fortuna l'hai fatto ma tu potevi benissimo non farlo e nessuno ti avrebbe detto niente di fare sì vaffanculo amo Gurin esatto voglio fare l'albo su Gurin vaffanculo lo faccio esatto 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 mentre facevi chimico suona Breaking Bad non l'ho capito mi dispiace no neanche io non l'ho capito perdonami ah chimico oh Breaking Bad la chimica chimico ecco a proposito invece a proposito di chimico ok ho scelto il nome a caso cioè non a caso ho aperto tipo nomi femminili giapponesi su internet ho aperto un sito e c'era tipo un significato particolare che ora non mi ricordo no l'avevi scritto l'avevi no ma dai l'avevi scritto tipo cos'era principessa che era eh sì ma tu devi sapere una cosa di me che io non mi ricordo assolutamente niente se tu mi dici sai ho letto questa cosa in chimico e io devo andarla a guardare perché effettivamente non me lo ricordo ora che avessi detto qualche tipo vabbè sì io mi ricordo che potesse avere a che fare vabbè era tipo tigre e principessa boh 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 allora momento linguistico ko è tipo il carattere con cui terminano quasi tutti i nomi femminili quindi di solito è scritto con fanciulla sì no ma la mia conoscenza del giapponese è tipo sito internet quindi se è sbagliato era il momento linguistico scusate momento linguistico no 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 assolutamente aspetta ora google per curiosità l'avevo scritto nella vignetta quella con su cui in cui chimico fa lo skate il trick sulla nonna che muore d'infarto quello me lo ricordo perché ho cercato i kanji e li ho messi nello skate però se ti devo dire che significa non mi ricordo questa versione aspetta e insomma praticamente c'era e poi poi mi hanno fatto scoprire io scusami io questa questa vignetta ce l'ho pensato fin troppo tempo sappilo ce l'ho pensata fin troppo tempo a questa vignetta perché era un periodo che anche io dicevo sempre sta stronzata ma basato su cosa lo dicevo anch'io sempre perciò niente basato eh sì sauro tu sei molto basato non ti dico su cosa però sei basato insomma poi mi hanno fatto scoprire The Boys non so se l'avete visto sì l'ho visto tutto sì esatto in cui c'è una una ragazza giapponese che non parla ah beh sì fa quello che fa chimico che si chiama chimico io non lo sapevo bellissimo bellissimo assurdo basta intelligenza collettiva sì sì molto zeldiana con le immagini io non ricordo che immagine forse perché ne ho scorse molte però diciamo di sì è vero sì assolutamente è stata proprio l'ispirazione tutti gli zel allora io voglio torno al commento di Lelo che dice chiede scusate se se vi faccio leggermente off però lui chiede se conoscete Carles Dalmau no io no ma adesso lo vedo per carità se risposta è no è un artista di Instagram che è straconsiglio sempre quando è occasione perché non è in perfilta in assoluto ha fatto anche un webcomic l'apprezzo oltre al stile soggetto è uno stile simile Gravity Falls ma contemporaneamente dell'atmosfera onirica e nostalgica a volte anche orrorifica tra l'altro lo stile di Della Croix assomiglia anche un pochino a quello di Carles allora vediamo questo Carl vediamo così Della può dirvi sullo scritto sì c'è principessa io ricordo che lui l'aveva scritto io miope così io incollata allo scritto sì io lo ricordavo che lui l'avesse detto e quindi che significa principessa avevi scritto tu principessa il primo era principessa sicuro poi ok allora innanzitutto è sicuramente è bravissimo non si può dir di no lo ricerco è bravissimo sai sai Della più di Della mi ricorda la prima Alia la prima Alia Patanè mi ricorda più di Della quando faceva Gridi Gridi Flower Gridi Flower prima che facesse solo fumetti sul K-pop what madonna io non sono uno di quelli che dice ah sai io no ma io glielo promozio odiare su no 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 cioè il mercato c'è il K-pop il mercato c'è a me disturba del K-pop il fenomeno di morbosità che c'è sui cantanti ma la morbosità ti ha fastidio su tutto del resto anche noi no che apprezziamo manga e anime siamo i primi che ci dà fastidio quelli che dicono che esistono solo i manga e stronzate simili o che sì però sai cosa non lo leggo perché leggo soltanto manga però sai che c'è e quello lo posso anche capire perché ad esempio io non leggerei mai che ti devo dire manga o fumetti di guerra perché mi annoiano vabbè di qua di qua dire ah non esistono certo ce ne vuole certo però quello riguarda delle persone fisiche cioè io capisco che poi è tutto costruito intorno a quello perché altrimenti non venderebbero però parentesi chiusa comunque sia grazie Lelo per averci fatto conoscere questo artista spagnolo sicuramente molto 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 bravo 24 anni vedi qua mi cala proprio la depressione no ah 24 anni 24 anni ma tu sei bravissima cioè fai cose diverse cioè non è che hai tu non credo che magari quando hai 18 anni uno non ha il suo stile ben preciso si fa chissà che sogni io non lo so perché non so disegnare però io credo che tu sei il primo che non vuoi essere come lui tu sei tu no no assolutamente anche perché ognuno appunto sviluppa il suo stile no sai cosa hanno di sono più fortunati i ragazzi di oggi perché i ragazzi di oggi i ragazzi di oggi perché quando io avevo 15 anni e cioè 15 anni fa non c'erano tutte le risorse che ci sono adesso anche io avevo 15 anni fa quindi ti capisco capito cioè tu considera io per imparare a disegnare lei ha 15 anni aveva 15 anni l'anno scorso quindi fai tanto no però sì ovviamente c'erano i fascicoli della Disney non so se qualcuno se li ricorda qualche vecchietto i fascicoli della Disney cioè non è che andavi su YouTube e c'erano 7000 tutorial o i PDF oppure i corsi su Udemy cioè non non c'era tutto quel materiale poi sono arrivati i tutorial di Angela Vianello prima che è diventato poi dice c'era Nick se volevi la roba buona ma questo forse tu intendi altra roba buona Pops se lo neggi e mi c'era solo DeviantArt DeviantArt con con l'InflationArt e con i Fu è bellissimo io ti giuro ormai quando sei quando vado andiamo 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 off topic in secondo andiamo off topic nel momento pubblicità il nome è scritto con principessa Bella Tigre io quando penso al DeviantArt ormai io penso sempre e comunque a questo disegno io non so se l'ho già fatto vedere in altre live perché è un è un mio trauma io penso specialmente paura che è proprio sai flashback del Vietnam io penso sempre a questa cosa io penso ci sono interi account di gente che fa solo queste cose usciamo usciamo via usciamo via la mia vita rovinata i primi furri assolutamente assolutamente se l'avete notato i suoi disegni sono anche complessi ma no è bravissimo Lelo nessuno no 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 qui non si sta a fare battute ma è bravissimo ed è ovvio se fosse italiano lo eviterei live ma non è italiano quindi lo trovo difficile ma per carità abbonati al canale e parlane con te se tu hai il canale di Anime Click sei invitato alla chat di Telegram e lì puoi parlarne sempre poi c'è Sauron che ti dirà stronzate totali tipo ah per non è giapponese lol io queste minchiate non le sento però noi lo insultiamo però Sauron ha detto che lo possiamo insultare liberamente quindi vedi vabbè se è così allora mi iscrivo pure io grande grande Dela regalate un'ambiente in diretto in diretto così Deviantart e come Tumblr l'associazione automatica alle H certo certo ma vabbè ma quello non era quello non è neanche un H per dire ah ma che tra l'altro adesso non si può dire io abbiamo fatto una cosa con i punti di mettere tipo cosa intende per H io non lo so Entai oh ok vuole che si iscriva no Tumblr ormai no ok non si vuole che si iscriva ok no non lo sapevo io fuck the police ma non vorrebbe comunque sia mi avete scammato con i punti neri con i punti ieri scusate ho letto male con i punti neri certo comunque sia no no sei bellissimo andrò qua allora io amo poi quando Dela si fissa con determinate cose questo qua no del core nucleare cioè io adoro quando tu sei a base quante immagini di waifu ci sono che fanno queste cose qua quello che gli scienziati non vi dicono che c'è dietro la scissione di un atomo negabile ecco qui potete vedere anche meglio effettivamente ti posso comprare la copertina di eh mamma ne hai spaccato tutto bro no ma ti sei superato ti sei superato ti sei superato meritai di molti più soldi di quanto io ti abbia mai dato e di quanti chiunque ti abbia dato io ne sono conscio ne sono conscio eh meriti davvero tantissimo assolutamente ah ma avete scammato con i punti ieri avevo chiesto il mio entai bro ma ma stasi nel gruppo telegram facciamo allora ne abbiamo sta stronzata che la gente ci dice la sua data di nascita eh e io vado su entai e vado vado a vedere dice qual è l'entai della sua della sua vita perciò dimmi ma ti immagini se avessi messo in dimmiro pops si può riscattare con i punti sta stronzata comunque sia geniale sì 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 voglio saperlo anche io eh con i punti si può riscattare mi dite la vostra data di nascita eccetera eccetera adesso parliamo perché tu tu d'un tratto ti sei innamorato di lei eh perché perché il personaggio è stronz e mi piacciono le rane soprattutto ah ti piacciono le rane ok no ma anche parte della direzione del fumetto è nata con il fatto che mi sono affezionato al personaggio perché doveva essere una cosa completamente secondaria a un certo punto succede quello che succede va bene arrivederci e tanti saluti non si vede più e invece poi mi sono affezionato e mi è piaciuto sì 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 ehm ritorno un attimo così mi tolgo dalle scatole sta cosa di Kuni ehm che mi chiede le 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 allora il tuo entai caro si chiama eh naked flowers ha solo un tag solo uno che è ehm le vabbè le loli praticamente ovvio era ovvio che uscìva quello c'è neanche a pensarci però nelle prime tavole c'è una con delle tette gigantesche quindi c'è un po' di tutto in realtà c'è anche una volte in realtà ti dice che è quell'unico tag ma non è quello l'unico tag non ti preoccupare c'è di tutto non ti preoccupare quindi è il tag che conta capito poi nella copertina c'è una coda io non sono sicura a questo punto che sia davvero una coda io voglio sapere il codice non per aggiungerlo nei preferiti ovviamente eh no l'ho scritto l'ho scritto il codice 24 10 88 24 10 88 eh allora Scott ha riscattato i punti per chiedere un manga per consigliare manga Della consiglia un manga Scott allora il mio preferito della stagione che difficilmente verrà scalzato dal primo posto secondo me dovrebbe uscire qualcosa di proprio più bello è la via del grembiule uh la via del grembiule secondo è perché a me piacciono i contrasti così come per dire appunto Kimiko-chan carina e poi fa cose orribili a me piace il contrasto nella via del grembiule perché c'è appunto il mafioso giapponese che è un casalingo ed è bellissimo no è molto bello il sul land è molto bello ha pure vinto ha pure vinto appunto è stato candidato agli Eisner Award no 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 è bello il grembiule io spero che facciano anche uno spin off sulle polycure o quantomeno facciano delle figure sulle polycure ecco qua perché le vogliono no comunque quello è il miglior manga poi se vuoi invece qualcosa di un po' più vecchiotto un po' più un po' meno conosciuto leggiti Mary the Virgin Witch non lo so la copertina io rimango sempre impressato mi rimane sempre impresso quello all'edizione italiana si è bloccato lui o non eh lui credo perché io ti sento pensavo di essere io per un attimo tipo un gatto la live è nostra abbiamo preso il potere finalmente era dall'inizio che volevamo questo allora di che si parla? sono? eh ecco sono? mi sentite? sì sì adesso stavi dicendo? ma c'è la seconda volta sto avendo timori mamma mia che rottura di coglioni stavo dicendo che Maria the Virgin Witch è la cover più brutta la cover italiana è la cover più brutta che abbia mai visto in vita mia e poi il mondo è carino perché parla comunque di una strega con i capelli corti sogno infatti stavo guardando quello ero interessato la cover è bruttissima mamma mia la cover del numero uno è bruttissima non è nemmeno giustizia cioè è uno sfondo buttato lì un disegno che sinceramente no? Star Comics voglio bene Star Comics assolutamente però non è che si possono sempre fare complimenti è una brutta brutta cover sembra è una brutta brutta cover andiamo poi la giapponese come sarebbe sei sicuro che anche in Giappone non è così? mi pare scusate abbiamo un pupato zio che sta succedendo? non ne ho idea non lo so però involontariamente hai detto pazzo no no ho detto cazzo non ti preoccupare no perché quanto mi pazzo cosa sta succedendo? davvero non so cosa stavessi qua Ray oggi è chimico si si è chimico è chimico è chimico? raga raga oh chimico nel wifi secondo me è affacciata dietro la finestra sai gli horror quelli giapponesi orribili è qui fuori? dai là questo è per lo show no no forse è il terrore stavo per fare una battuta che forse è bannabile però si però si ok si prendo un attacco di Doss da Evriai gira voce che se ripeti chimico c'è un di tre volte davanti allo specchio poi lei appare così e su questo ci farò una vignetta lo farei che riprenderò a fare anche le vignette perché mi manca fare le vignette di chimico e le tue vignette secondo voi ritorno ai commenti innanzitutto Sauron vai a fanculo voi ritorno ai commenti ma le vignette pensi che subiranno non si sa cosa subiranno ma lo subiranno subiranno maltrattamenti assolutamente no come potete ben vedere si esatto compaio io compaio proprio io mi prendo l'onere è un duro lavoro ma qualcuno va a buffarlo sì sono d'accordo chimico chan davanti allo specchio così si accomando o shibra la dici io sono curioso di aspetta mi sono perso il il commento di Dario mochiamang eh sì infatti c'è il tag ma aspetta 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 colpo di stato esatto sei l'ortenshi adesso anime click sarà solo made e ragazze poppute guarda un po' solo queste due cose non ci saranno più in tal proposito voglio ringraziare proprio lo sogno allora sentite allora fanculo eh faccio una cosa così ciao che succede Ziro e Zoro cioè è la doppia personalità assurdo no oddio sta ancora una cosa che non avrebbero mostrate ok rimango così così nel peggiore dei casi sono già pronto ciao Zoro escilo Ziro escilo sì c'è stato un momento sì sì queste sono cose che devi mandare solo a chi si sabba no così all'anima gemella comunque l'anima gemella che rottura di coglioni ragazzi pensavano che pensavo che avevano un rapito Ziro quasi c'ero quasi però purtroppo allora vediamo non lo so non so cosa mi succede speriamo che sia finita qui io che cazzo stavo dicendo parlavamo delle vignette forse pensi che allora devo dirlo perciò che allora pensi che le vignette possono subire un cambiamento visto che comunque con la storia il tuo manco è diverso adesso il tuo concetto di chimico è diverso penso che un po' sì sì ciao Lelo è più facile che farò magari farò delle vignette ma farò anche degli episodi brevi vorrei fare proprio per riprendere un po' lo spirito del fumetto adesso come è giusto che sia stai lavorando sentite doppio audio? sì ma un pochino eh vabbè no ma io ho tolto il mic perché si sente doppio? ok aspetta ci sto pensando è proprio impossibile me chimico chimico è stata allora stavo dicendo ehm stavo dicendo le vignette subiranno non so se no e poi niente ragazzi proprio un attacco dos e poi me eh vabbè bello bello chimico c'è ne è bello grazie ve lo consiglio è carino è interessante no ancora non si abbassa l'audio è bellissima questi sono gli effetti di chimico c'hanno sull'uomo su chi lo legge capito? esatto 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 sì ricordo adesso tu giustamente ehm stai lavorando a Della Cro 2 sì nel prossimo volume di Della Croix ehm pensi quindi che poi ci sarà anche spazio per un sequel di di chimico? ehm quasi sicuramente devo capire che direzione dargli sempre per fare qualcosa che non ci si aspetta se ci riesco però sì penso di sì nice 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 in tal caso rei dovrei fare un altro cosplay nuovo però con un vestito potenziato capito come in dragon quando ritorna non ritorna più potente con qualche arma qualche deschio assolutamente sì raga reintendevo Kimiko-chan ha corsato la live è vero no Kimiko-chan anzi no haha no Kimiko-chan se votare la live di anime click non è il modo giusto per punire Ziro dei suoi peccati prossima vignetta eh ma che poi posso mostrarla secondo te Della la vignetta nella quale Kimiko-chan mi decapita tanto alla fine è tutto blu mi pare mi pare che era tutto blu quindi alla fine allora ah ah due questa è bellissima aspetta me ne hai fatta una per il mio compleanno l'anno scorso mamma mia adesso mostro quella tanto quella si può mostrare tranquillamente no perché prima giustamente rei ha flexato le sue illustrazioni eh ha fatto benissimo c'era bisogno era necessario era ringrazio anche il pubblico adesso se sdoppio ma è colpa mia anche io certo ma forse è colpa mia sì è colpa mia sempre colpa mia no allora ma perché io sto cercando di fare il piano B o il piano C nel caso in cui dovesse esplodere tutto di nuovo per questo eh il punto che non ho neanche un buon cellulare quindi quindi lui mi ha fatto questa bellissima illustrazione questa si può mostrare che le mie copie grazie mille grazie mille davvero di cuore sono dei tesori questi eh beh di cuore e di cuore di cuore e di cuore assolutamente mamma mia eh allora c'è invece un personaggio dei tantissimi che tutto sommato non è che ti piaccia così tanto eh ah 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 sì infatti appare pochissimo oh rispetto alle altre è sviluppata poco perché gestire due personaggi è facile gestirne tre già è un po' più difficile ma ma a parte quello non cioè è lì come segnaposto però questo è stato bello ora i fan di Aisu che si arrabbiano i flame potrebbe essere cancellata tutto ad un tratto no no quello no 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 difficilmente a parte che vabbè con la storia che caso ci dobbiamo immaginare non lo so a meno che è chimico ah beh non ti preoccupare per questo però sono cose che non mancano mai ecco poi ricordiamo che Dela è un genio a prescindere questa è la reference politica ma sì si può fare ricordiamo che Dela è un genio a prescindere assolutamente ma che cretino è stato prima il mio internet non l'ha mai fatto in un anno di live vabbè non voglio dire che la mia presenza non è un'idea niente perché succede sempre quando ci sono io però ecco c'è pure la succhierella selvatica sì che appare anche in fumetto tra l'altro sì anche in copertina se dovessimo citare tutte le cose che appaiono mamma mia ma infatti non lo voglio fare qua non so se si vede tranne Alex Zero cosa? manco? è l'unico che non appare in copertina no vabbè no già sono troppo gentile non c'era bisogno però io per la copertina l'ho consigliato io vero 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 lo volevo dire prima poi abbiamo deviato no no questo è verso io questo merito io un po' di me nella copertina me lo sento comunque sì ok vedi senza averlo detto che inizialmente la copertina doveva essere solo il faccione di chimico sì e invece gli ho detto no fai l'opposto tipo no ma vedendo la storia tra l'altro perfetto sì vedendo la storia tra l'altro è stato perfetto assolutamente in tema c'è pure una chimico paperella molto bella molto molto bella la chimico paperella quindi faccio una domanda stronza io anzi in realtà non credo sia stronza io credo anzi che sia abbastanza scontato comunque sia tu tra succhierelle e chimico hai una preferenza netta sono allora succhierella è un personaggio ecco ricordiamo succhierella è un suo personaggio sul quale è più difficile fare delle live sì non è impossibile qualunque cosa prendi è banale è un personaggio estremamente dissacrante che prende l'ironia più spinta anche un pochino più a livello erotico ma non mi piace come termine sinceramente è grottesco sì grottesco è carino sì grottesco è carino ma un tipo di grottesco che su Twitch non si può mostrare però comunque sia assolutamente sempre lì siamo sull'assurdità è una è crollato perché è crollato io pensavo l'avessi fatto tu no perché figurati è un tipo di grottesco diciamo più spinto è che mostra quell'anima molto forte della crua appunto e perciò dicevi anche se ah sì che Succhiarella è un personaggio diciamo è un comfort character se si può character se si può dire perché praticamente io lo disegno sempre ma è solo per fare sketch battute stronze cose stupide no ma è fatto diciamo il chimico è stato il personaggio più studiato forse cioè è nato per caso ma poi ci ho progettato sopra nice del resto Succhiarella è molto che poi è bellissimo dire così tanto Succhiarella live Succhiarella è comunque sia cioè anche lì è un personaggio edito un albo edito proprio tu non guardi in faccia a nessuno no no allora per quello io devo ringraziare il primo editor il primo capoccia di quella Benedetto Benedetto che mi ha cancellato da facebook da un giorno all'altro non so perché ti saluto ma che ne so alle volte mi canti Massimo Dall'Olio anche lui un momento all'altro mi ha cancellato da facebook non ho un'idea ciao Massimo Dall'Olio continua no ma allora Benedetto mi pare che lui comunque forse non si occupa più di fumetti no 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 da anni da anni da anni insomma lui si innamorò del concept di succhiarella cioè tu considera che è stato accettato prima succhiarella e poi Zeus ma del resto no conoscendo Benedetto prima che mi cancellasse da facebook senza alcun motivo sì decisamente è solo ancora comunque come un uomo di cultura ma no Kimiko Chan restituire l'unica della Sauron l'oscuro ecco Sauron ci sei tu Sauron l'oscuro di Mordor non conta come restituire il mattotto legittimo proprietario bellissima 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 ecco io questa me la salvo perché poi se non c'è Sauron gliela devo mostrare in qualche modo ricordamelo anzi no te la mando adesso su telegram così ce l'hai in hd no no non c'è bisogno Vito dice mi manca il lore della cancellazione da facebook ma se parli di me ti manca il lore di ogni cosa ricordate la raccolta di immagini a fine volume è completa ne vedo alcune qui che non riconosco no non è completa no no mancano alcune cose perché ho messo diciamo quelle che mi piacevano di più praticamente anche perché sono un po' tantine sì certo 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 sì sì sono proprio tante e poi ci sei andato secondo me diceva che questa era di zelda sauron sai ho l'impressione di gestire no 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 ha scritto era quella in cui chimico fa surf su su airy una delle ultime è questa sicuramente deve questa può essere perché magari non l'avrei dovuta considerare surf no perché secondo me vabbè basta è bellina però dai airy sì sì lei proprio è l'incarnazione eh sì è pura del dolce e proprio possiamo definirla un bel personaggio positivo airy mi fa molto piacere ci sta come contrapposizione un personaggio simile docile dolce che al più fine è stata la parte di chimico forse più perché non se ne rende conto e per carità anche questa e non credo che ci possa essere alcun altro motivo ed è molto molto carino tutto ciò molto carino quindi niente qua è bellissimo è bellissimo bellissimo assolutamente questo disegno questo è particolare invece questo l'hai fatto sempre tu pensate non me lo ricordavo questo non lo sto mostrando non lo sto mostrando io sto ah ok non lo sto mostrando perché sono uno scemo perdonami non capivo infatti questo intendo questo non l'ho fatto io questo è uno stile diverso sì come mai sempre il motivo sempre è esperimento ok ecco giustamente vado su ecco qua subito le tele compaiono subito sì la seguo anch'io io stavo facendo la vaga tipo che cattivone siamo uomini di cultura non ti preoccupare non ti preoccupare devo dire che Zero mi ha influenzato molto per il discorso dei capelli corti proprio nella vita cioè mi ha ma sì sì non sei il primo che me lo dice Ray tagliati i capelli poi ecco qua tanto ci devo andare non ironicamente quindi anche perché andarci ironicamente sarebbe un po' fastidioso io che vado dal parrucchiere faccio la serie mi taglio i capelli taggo Alex Zero e poi torno a casa e sono come prima e basta tra poco finiamo tra poco finiamo che sono le otto e mezzo vi lascio cenare e anche a me questo posso dire allora questo io l'amo l'amo tantissimo ti posso dire che mi ricorda anche così mi ha ricordato mi ha dato vibe da Gotonamite ci ho pensato anch'io ah beh sì effettivamente sì 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 no non voglio dire non voglio assolutamente dire che tu hai preso e hai pensato per me Goto è il manga italiano più bello che ci sia mai stato e che ci sia e non so se qualcuno riuscirà mai a superarlo perciò è bello per me è bello comunque sia vedere un altro autore che me lo ricordi in qualche modo assolutamente sì vabbè Gotonamite è inarrivabile ma tra l'altro non vorrei dire una stronzata spero di non dire una stronzata è criminalmente sottovalutato è criminalmente sottovalutato è criminalmente sottovalutato motivi boh possono essere diversi mettiamola così i motivi te lo dico io quali sono perché intanto c'è c'è lo stigma del del discorso che si è vero manga da quelle vibe da manga ma è italiano certo o quantomeno è nato in Italia e poi il discorso che molti comunque non sono diciamo non pronti come dire non hanno il gusto per le cose macabre violente e poi è tutto è tutto c'è il metalinguaggio che è passesso ma vabbè non parliamo del disegno e dei colori perché lì c'è davvero soltanto da strapparsi i capelli perché lì non si parla tra l'altro negli utili lì si parla a livello internazionale della bravura di Alonso perché la bravura di Alonso quella va assolutamente ma dovevo fare una live ma che Alonso è difficile da beccare è difficile da beccare ma no ma qualche volta mi ha chiesto anche per carità una mano eccetera per promuovere però niente questa live è cursatissima alla fine come giusto che sia giusto giustissimo allora io andrei quindi ai saluti finali ragazzi dalla se avete tempo per un'ultima domanda se volete mi dovete sbrigare concentrato grazie per esserti iscritto allora Ray prossimi i vostri impegni oddio allora le core cara continuano tutto il mese a fare eventi io finché ho l'esame purtroppo sono obbligata il 16 però poi c'è l'orale forse se passo lo scritto 4 ore d'esame più altre cose cioè vabbè ma gli orali di lingua non esistono Ray non sono veri gli orali di lingua no non devo sapere tre poesie a memoria presentare tipo me qualcuno a caso da noi il terzo anno non so non mi ricordo più quanti libri dobbiamo sapere quindi vabbè io personalmente sono un attimo in pausa però le core cara continuano a bomba questo mese uscirà il singolo dei cosmics si può dire certo cioè è una vita che ci stiamo lavorando io sto tipo quando quando il 24 settembre c'è la mezzanotte del 23 quindi mi prego per una live promozionale sogno sì sarebbe molto bello comunque noi ci troviamo molto bene su questo canale io pure oggi sono stata tranquillissima nonostante ero un po' stressata perciò grazie mille non stressarti Dela allora intanto io aspetto il singolo delle cosmics proprio come progetto originale poi collateralmente sto cercando di scrivere sto scrivendo qualcos'altro però non ho ancora scelto cosa fare beh tu con Patreon crei una cosa nuova ogni mese praticamente fai un pacco di rock nuove tu tu sei un pazzo completo al momento sto facendo ruby rock non posso dire il seguito del titolo perché credo sia abbannabile ma se masticate un po' di inglese potete capire con la rima poi mi dispiace Francesco siamo a fine live ormai vabbè la puoi riguardare si puoi riguardartela ci farò l'articolo eccetera io ecco rilinco tu parla Dela io rilinco intanto qua si si e poi sto pensando di sto scrivendo qualcosa di demenziale a parte il secondo volume di di Dela Cro però non voglio svelare niente perché fino adesso sei andato sulla politica e quindi ci vuole qualcosa di più leggero sì esatto fino adesso arrivi studiati i massimi sistemi dell'universo esatto no 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 non si può definire leggero leggerissimo chimico perché comunque sia però sono felice che tu hai reso la vita più facile a noi lettori nel senso eh come lo dico nel senso che hai messo tanto tantissimo dentro però non è importante avere risposte non è importante avere risposte o anche cercarle per goderselo e quindi forse viene più pesante per te che per noi quindi non ti preoccupare grazie ciao merody ciao merody ciao ciao lei è la mia iri chan sì è vero falese è vero è verissimo ah cosa importante lo dico quindi può acquisire ufficialità perché tra l'altro mei daki mi ha passato anche il materiale già da mesi quindi infatti io stavo così oh sto facendo un fumettino sull'eco de cara poi farò vedere qualche anteprino sogno dei sogni noi che abbiamo scritto tipo dei file di testo che fossero seri tipo come si caratterizza un personaggio tutto fatto bene però con dentro scritto le cose ragazzi un secondo un secondo devo assentarmi un secondo parlate tra l'altro parlate tra voi due mi è stato scritto un dettaglio di Maid Ray cioè che implica che io dovrei mostrare la pancia di Maid Ray questo non lo so non so se lo so non so spiegare che cosa ora non mi ricordo il dettaglio ma era un segno particolare non lo so non credo che lo mostrerò comunque ah in A di Maid Ray suppongo può essere una cosa del genere non ci vuole perché io ma segni particolari tipo ma che ci devo mettere tipo così completamente confusa sì 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 come minimo mi sarà arrivata la risposta di Paola alias Meid Dagi boh mettici ai piedi cioè come minimo sarà finita così quindi non lo so non mi ricordo neanche più anche perché quelle caratterizzazioni erano quelle che avevamo scritto all'inizio del Core Cara quando ancora i personaggi non avevano preso la piega che hanno ora quindi c'erano delle cose tipo Maid Ray ama i BTS ora un po' non li ama più li ama ma non è mai stato detto da nessuna parte cioè qui è la prima volta che viene detto che Maid Ray è fan dei BTS capito? questo è un pezzo di lore importante esatto no ma io non ho mai avuto dubbi io non ho mai avuto dubbi io non ho mai avuto dubbi ti preoccupare ombelico fetish perché no? no no infatti ci sono delle cose che non hanno più senso no ce l'hanno tipo il fatto che Merody cura tutto con le tisane ce l'ha tantissimo senso però volevamo fare che fosse anche una di quelle boomer che va su internet tipo come posso dire si legge le notizie fake ecc e ci credi fermamente allora bellissimi quindi prepariamoci per altre 12 live con Dela e Ray e le Corecara e le Cosmix noi che torniamo ma vestiti in un altro modo ciao non sono quello dell'altra volta sono un altro quattro personaggi considerando che anche tu sei un personaggio quattro personaggi diversi quattro e mo ne cacciamo fuori un altro si si assolutamente chi fa non si sa chi quella che può parlare in merda allora tu considera già il prossimo personaggio hai i capelli l'armi sogno proprio caschettissimo armi si per beccare caschettissimo armi proprio ti prego comunque si è il fatto che ci sono più ragazze con i capelli corti perché copiano 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 appunto l'oro gli idol vari questa è una cosa buona ma Merody di loro era comunista da giovane per il dettaglio della non in atta ricche sempre vero ormai c'è compra solo Dior non lo so che ne è successo ragazzi secondo me possiamo fare una live just chatting senza argomento in futuro no Merody quel commento non te lo leggo non te lo leggo e quindi me ne vado via con questo possiamo chiudere bellissimi grazie mille Dela grazie mille grazie a te grazie a voi comprate comprate chimico tornerà in venti da 3-4 settimane quindi non fate cazzate l'1 ottobre è mio compleanno quindi compratelo come regalo per me tenete da parte la paghetta mi raccomando sì 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 16 euro per questo a colori sarà compreso anche lo spin off pure lo spin off pure lo spin off sedi qui buonanotte va ciao ciao